Scusatemi, perché se mi menzionate Cialanoglu, Luis Alberto e Barella, io devo sentire come primo nome Adrienne Rabiò. Attualmente Rabiò è il miglior centrocampista della Serie A. Perché Luca ha ragione? Perché Rabiò è l'unico centrocampista di calcio che sa anche giocare a pallavolo. Quindi, unendo le due discipline... Luca, Luca, Luca!